Benvenuti, cari follower, a questo nuovo video che, in caso di forti nevicate e quote molto basse, tornerà nuovamente in Italia, a partire da domani, sabato 8 aprile 2023. Ma prima di entrare nei dettagli, vi ricordiamo le zone preoccupati proprio della neve e della pioggia, come al solito, non dimenticate di sostenere questo video con ammirazione e seguiteci. Con noi fino alla fine, in modo che possiate capire tutto. Se, come era previsto dall'inizio di domani, sabato, l'aria fredda farà fuoriuscire e raggiungere le regioni centrali d'Italia, soprattutto con forti temporali e nevicate, sarà a quote molto basse, ma con accumuli relativamente deboli. Lo spessore della neve previsto sarà compreso tra lunedì e 15 veleno localmente, ma come ho detto, l'altezza di consistenza diminuirà sensibilmente dopo alcune zone, e pertanto, a partire dalla mattinata di domani, sabato, si richiede prudenza e prudenza nelle regioni centrali d'Italia da forti piogge e forti nevicate, nello specifico Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Roma, Napoli, e si unirà anche a Campania, Abruzzo, Molise, e poi a tardanotte verso Basilicana e Puglia, con precipitazioni significative e abbondanti in queste aree citate e anche neve sarà presente a partire dal mattino e a quote molto basse e continuerà fino a domenica almeno con spessore. Di compreso tra 2 e 15 cemme e può raggiungere i 20 cemme in alcune zone quindi è richiesta prudenza e prudenza e molto forte domani, sabato, nelle regioni del centro Italia, soprattutto dal pericolo di luoghi forti, nevicate, e i bianchi di alcuni rovesci di neve e pioggia che restano presenti nelle zone di confine con Francia, Svizzera e Austria, e rimanete sintonizzati per altri dettagli nelle prossime ore.